finalmente ragazzi è arrivato il video su tectonic me l'avete chiesto in tantissimi ed eccolo qua prima di iniziare però mi raccomando cosa molto molto importante ringrazio sempre del vostro supporto lasciate like al video ragazzi so che a voi non costa niente ma per me è fondamentale e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi i nuovi video benvenuto io sono salvatore se non mi conosci parliamo di tectonic una piattaforma sulla chronos chain del quale mi avete chiesto in tantissimi vedremo in questo video un aggiornamento importante che è arrivato riguarda lo staking e vedremo un po come funziona la piattaforma quindi mi raccomando guarda tutto il video prima news molto molto importante finalmente sta per arrivare lo staking sulla piattaforma tectonic questa è una notizia ragazzi davvero interessante che da un lato può essere un vantaggio soprattutto perché offre un caso d'uso ulteriore per quanto riguarda il token appunto tonic della piattaforma che come ben saprete avrete già immaginato è comunque una piattaforma sì davvero interessante la solita piattaforma di lending e borrowing con una funzione in particolare un po diversa diciamo dalle altre piattaforme che però comunque ragazzi come altre piattaforme che conosciamo bene su tante altre chain con l'aldar del tempo e soprattutto con una quantità di token di come supply sostanzialmente indescribile anche perché sapete bene che la supply di tectonic ragazzi è un 500 triliardi un numero che non si può neanche definire comunque come potete ben immaginare queste piattaforme sapete bene che con l'andar del tempo e quindi con l'immissione di tutti questi token e tendono comunque a perdere diciamo di valore quindi è una cosa che personalmente considero e penso che soprattutto nei primi anni succederà anche per tectonic poi se dovesse durare con gli anni ovviamente cambierebbe il discorso però c'è appunto questa notizia che riguarda lo staking che andremo a leggere che è comunque abbastanza interessante andiamo a vedere che cos'è lo staking e come funziona ovviamente la nuova funzionalità in arrivo su tectonic che consentirà ai professori di mettere i propri i token is saying e ricevere delle ricompense i famosi e rewards ovviamente ragazzi non è la stessa cosa del lending e borrowing che conoscete già su tectonic ma è una funzionalità diversa l'idea è che le parti interessate riceveranno appunto i reward inclusa una quota delle entrate che sono generati dalle commissioni lo staking di tonic guiderà un ulteriore utilità ovviamente darà un'altra utilità al token tonic quindi incentiverà ovviamente i possessori a metterli in staking per guadagnare altre commissioni e le altre funzionalità che ancora non saranno attive sarà ovviamente la possibilità di assicurazione sostanzialmente e per quanto riguarda la governance che verranno poi lanciate nei prossimi mesi quindi per il momento verrà lanciato soltanto lo staking ma come funzionerà lo staking allora i possessori del token tonic possono mettere i staking nel modulo i token e ricevere in cambio gli xtonics comunque che avranno un tasso di cambio questo tasso di cambio secondo ovviamente quella che sono le considerazioni di tectonic andrà ad aumentare nel tempo in modo tale che quando poi toglierete dallo staking i vostri tonic quindi darete indietro gli xtonic e riceverete i tonic ovviamente essi avranno un valore più alto infatti essendo il tuo vendimento il tasso di cambio tonic xtonic aumenterà nel tempo senza alcuna azione da parte tua di conseguenza quando ridichi il tuo tonic dal modulo di staking riceverai più tonic rispetto a quando effettuato il deposito iniziale ma perché questo tasso dovrebbe aumentare perché il protocollo indirizzerà il 50 per cento di tutte le entrate con le spese di liquidazione e rimborsi e rimborsi di pressi sostanzialmente nel grazie allo smart contract che verrà convertito in modo automatico sostanzialmente dalla smart contract in token tonic dagli scambi sostanzialmente decentralizzati così come su vvs finance sapete benissimo che l'altra piattaforma del quale mi chiedete sempre appunto fatemi sapere nei commenti se volete approfondire anche vvs finance aggiornamenti e quant'altro apprezzo molto i vostri feedback nei commenti questa ovviamente dovrebbe essere un'ottima notizia per detenere il token tonic perché esercita una pressione di acquisto sui mercati e man mano che le persone metteranno che utilizzeranno la piattaforma quindi prenderanno in prestito e rimborseranno i loro prestiti lo smart contract acquisterà i tonic dal mercato e così da rendere ovviamente la liquida del token diciamo minore quindi toglierà abbasserà l'offerta del token tonic dal mercato dovrebbe e quindi poiché come possiamo leggere il tasto di cambio tra x tonic e tonic è determinato da quella quantità di x tonic che saranno ovviamente ambientati rispetto alla quantità di tonic il tasso di cambio di x tonic tonic ovviamente aumenterà ovviamente ragazzi io vi tengo sempre aggiornati sulle novità quindi a proposito di questo vi invito a seguire il mio profilo twitter che ovviamente non lo pubblicizzo molto però mi invito ancora di più ad entrare nei canali e gruppi telegram che trovate in descrizione nel quale metto le notizie più importanti tra l'altro nel gruppo telegram potete chiedere qualsiasi cosa è una bella community e se avete qualche domanda potete farla tranquillamente brevemente come funziona a tectonic ovviamente come ho detto è una piattaforma sulla cronos chain avete la possibilità di collegare il vostro volo e tra ragazzi che può essere sia metamask settando ovviamente la rete cronos cene o il vostro cripto punto com wallet extension che appunto l'estensione broso era del volete di cripto punto com la piattaforma vita la possibilità di ovviamente guadagnare degli interessi fornendo liquidità oppure avete sostanzialmente la possibilità di prendere in prestito una di queste criptovalute mettendo un collaterale per quanto riguarda adesso sposto un attimo la webcam per quanto riguarda ragazzi gli interessi non ho trovato diciamo cose molto interessanti scusate il gioco di parole se non altro per quanto riguarda lo staking di crew infatti perché fornendo liquidità utilizzando i vostri crew avete la possibilità di guadagnare un 9,8 per cento come api che non è diciamo altissimo ma non è nemmeno niente male e in più c'è una comunque il il protocollo vi dà la possibilità di guadagnare un ulteriore 11,86 per cento distribuito in token tectonic quindi non è davvero niente male per quanto riguarda questa criptovaluta mentre per quanto riguarda le altre gli api sono comunque davvero davvero molto bassi e considerando che è un protocollo che non ha un tvl incredibile e considerando che comunque non considero il token tonic che almeno per quanto riguarda i primi due tre anni poi non so gli sviluppi futuri non lo considero un token che esploderà anzi penso che comunque nonostante gli ulteriori casi d'uso che verranno offerti tenderà comunque nel tempo essere inflazionato dal quantitativo incredibile e comunque quindi penso che appunto a parte quanto riguarda crow soprattutto in un periodo di burrano potrebbe essere interessante mentre nei periodi per il market diventa secondo me una strage ma a tal proposito considerando anche vvs finance che appunto una piattaforma scusate risposto la web è una piattaforma che appunto della quale già mi avete chiesto in tantissimo ha comunque collezionando il token vvs che anche lo considero un token che col tempo perderà comunque di valore anche se vvs finance è già un market maker ed è diverso comunque come casi d'uso e d'utilizzo a differenza di tectonic comunque ragazzi considerando la pr che c'è su tonic usdc c'è comunque un 68 per cento che per chi vuole ovviamente qua c'è l'impermanente loss per quanto riguarda il valore di tonic quindi mettendo in questa farm correte il rischio di diciamo di impermanente loss sostanzialmente ma avete comunque una pr che è il 68 per cento che abbia comunque interesse abbastanza alto se appunto in questo caso avete la possibilità comunque di collezionare anche un token che vvs finance del quale potreste essere comunque interessati lo dicevo come alternativa considerando che appunto gli interessi pagati per chi fornisce liquidità al protocollo non mi sembrano un granché anche per quanto riguarda ad esempio fornendo i vostri tonic avrete un 7 per cento di avi più un 14,75 per cento che adesso non vedete perché ce la mia webcam scusate pagata eccola qua pagata a chi fornisce tectonic quindi in questo caso invece andando a mettere i vostri tonic su vvs finance avete comunque un 68 per cento di apr che comunque lo reputo tra virgolette tra le due cose il reputo meglio a questo apr anche se ragazzi una strategia potrebbe essere quella di approfittare di questi interessi e magari limitare i vostri token e incassare i profitti perché nel lungo termine vi ripeto né tonic né vvs finance li vedo con questa grande potenziale di crescita poi ovviamente dipenderà molto dagli sviluppi dai casi d'uso dipenderà soprattutto dal da aumentare del total value logged sui protocolli se la cronoscene diventerà tra i protocolli più utilizzati e tectonic potrebbe appunto superare vari test anche per quanto riguarda la sicurezza allora a quel punto il caso d'uso del token potrebbe i casi d'uso del token potrebbero aumentare notevolmente e questo potrebbe portare comunque un aumento a un apprezzamento del token piuttosto di un apprezzamento bene ragazzi vi ricordo ultima cosa importante se non avete ancora un account su crypto.com exchange avete la possibilità utilizzando il referral link di ricevere fino a 50 dollari di cro di bonus quello che dovete fare ovviamente aprire un account fare la verifica sul link che trovate in descrizione e mettere in staking 5000 cro altra cosa importante presto arriverà un video tutorial per quanto riguarda cro sia le varie applicazioni e soprattutto perché mi fate molte domande come funzionano staking depositi le varie il supercharger il sindicato tutte queste funzionalità quindi iscrivetevi al canale non ve lo perdete mi raccomando bene ragazzi grazie mille del supporto quindi vi invito a lasciare like so che non vi costa nulla per me molto molto importante iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e commentate il video con i nuovi video che vorreste vedere magari se avete bisogno di qualche approfondimento o volete qualche video in particolare vs finance tectonic aggiornamenti cro o qualsiasi altro ecosistema che volete approfondire apprezzo molto i vostri feedback noi ci vediamo al prossimo video